La Fondazione Ant organizza la giornata di solidarietà dei macellai per il prossimo sabato 18 aprile con noi per parlarne Leonardo Lodolini, benvenuto a Radio Bruno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, la giornata di solidarietà dei macellai il prossimo sabato 18 aprile, ovviamente anche in Toscana, di cosa si tratta? Sì, è un appuntamento che giunge all'ottava edizione, è la giornata di solidarietà delle macellerie fiorentine che aderiscono con le due più importanti associazioni di categoria, quindi i macellai fiorentini e la Giva Federcarni del Valdarno, quindi abbiamo in tasale un'ottantina di macellerie che devolveranno un percentuale dell'incasso di sabato 18 aprile a favore dell'ANTER che è l'Associazione Nazionale dei Tumori per l'assistenza domiciliare ai malati oncologici e i nostri progetti di prevenzione sempre oncologica. Com'è possibile riconoscere i macellai che aderiscono all'iniziativa? I macellai che aderiscono all'iniziativa esporranno la nostra locandina relativa all'iniziativa appunto però è anche possibile conoscere tutti gli aderenti collegandosi al nostro sito internet www.ant.it slash toscana e consultandoli appunto online. Perfetto, allora non ci resta ovviamente che invitare i nostri ascoltatori ricordando l'obiettivo ovviamente primario, quella della raccolta fondi per ANT. Esatto, a noi fa molto piacere che le due principali associazioni di categoria di macellai ogni anno ci sostengono però il nostro obiettivo primario è quello di raccogliere fondi per finanziare quelle che sono appunto le nostre attività di assistenza domiciliare e progetti di prevenzione senza iniziative come questa non potremmo andare avanti. Benissimo, grazie per essere stato con noi.